che guardi la ragazzi già sono essere il prime per quello che dice marco merino lui vede tutti i verdi perché dal tonico nome sa un botto dal tonico e bene la gente verde perciò adesso mi vedrà rosa troppo oscuro capace uguale fanno proprio tutto tanto per verde vale per verde non è che dove essere forse come scecato basta il cielo orecchiette sto pelato secondo me facendo questa cosa stendo quel poco 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 in più che ti mancava ma la fine ma la fine non è un merito 2 merito della tua iuna quindi non va bene sono calato di un tot di punti che non ho capito assomiglio già se un bello shrek non non me lo ricordavo così bello dice ma possono usarlo ma no 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 fa un po schifo posso farmi con il mare mi piace ancora non c'è sconfitta di quelli che in borsa vado dentro è nato a roma top shrek adesso marra diventa la papa marra diventa la papa mister marra mister marra si con alex mucci hanno fatto hanno un bambino in corso le ho parlato prima ormini marra di con loro perché è vero no l'hanno postato sui social no non lo è no perché non dovrebbero da bambino perché ti vi sembrano tipo no chi sono i tipi da bambino aiutatemi non so più cosa fare per vivere mamma scusami era meglio se finivo in carcere mamma ma che te l'aspettavi sembra la pelle di omi in certe serate non è uno scherzo ma pure le labbra chi vuole fare l'amore con me tranne meri proprio il cazzo verde lo so sbavare sì ma non metto un cazzo così dai fa scena sempre qui per il migliore di tuic italia vai e ai piccolò upon e gnomo grazie alessandro nei miei due mesi fullo grazie le regole da sabbatitti io ok ma come lo giustificherò sei bello sei bello quando mi hanno fermato le guardie giorni fa ma detto dove stai andando detto guarda sono stavo per lavoro sono lavora in giro mi ha fatto guarda io lavoro ma che lavoro fai ovviamente non potevo dire verso da sharec ogni tanto quindi ho detto c'è una tv online e adesso potete ridere in chat perciò signore guardie sono questo è questo quello che faccio ho visto una scelta tv online ho detto tv online non ha fatto domande pensa un po se gli dicevo questo perché di chi dice una guardia dei 40 anni così ma di buon live signora guardia aiutate donate c'è un po paura sai quando è difficile web anche adattare una ninja comunque posso ubriaca mi vestito da sharec giusto per completato e poi piango che mi sbavo tutto il trucco è giusto per completare la merda fai un link col mastice fuori dalla mia tv online senti ragazzi benvenuti nella mia tv online qua ci sono vari programmi tra cui l'arte questa è stata guarda adesso l'intrattenimento video ludico quello che facciamo con le slot machine ci sono le interviste e quelle che faccio quando avevo quattro peroni e lo faccio ubriaca gli ospiti che schifo no già sembra ma grazie per gli incubi di questa donna sei molto bello poi tocca a me no ma sai che ti trucco la donna maltrattata puoi vedere un trucco un bel trucco di violenza domestica ho lì grazie per prime bella bellata verde beh chi è il vostro ciuchino a questo eccomi come dio vederlo guardati c'è un buco in testa poi sono sensuale un po ma si può chiamare babbo hs per aggiustare buco alla porta ma magari unico vero streamer unico vero hs finale che conosciamo scusa devo fare un tiro solo così provo del piacere da questo ieri perché non dovevo ne vale la pena ogni tiro che fa prima poi imparerò ogni tira una sofferenza che c'è di male dai mi frega a me non ho dignità sei bello tanto così è che fai la cosa mi vengono quando sono anziano sta venendo bene comunque non si preoccupi poi dovresti confiarlo di botte sulla mascella a caso è troppo anche sul naso vede la cicatrice chi vuole la cicatrice ma tu se caglia sono fidanz non dire se cosa in pubblico da calcolo scalcolare è bello il nuovo virus abbiamo fatto anche bell'estra guarda che sta qui le crei la pelata anche se verde e bucchierellata ma come se lei va adesso facendo sarà bello dopo quanto sei arrivato è da poco da poco non volevo disturbarvi bene bene stai bene comunque dai hai sentito cosa ha detto ma tocca essere su di te vuoi vedere shrek arrabbiato è un roleplay di shrek come va chi parli con te me fa niente perché costa solo c'è più scura e sembra un coglione sto facendo un brutto oh bellissimo fratello non ridete di me poi facciamo il grinch ciao simo non spezza sta fatta del shrek è terribile è bellissimo il shrek che foto vuoi uno shrek reale no finto e posso dire che è più bella questa live di quelle che si tratturano le zicce se ti vingono nel cinema però c'è una molto brava ti guardi spesso magari alle tette giga sì quella che c'è tipo qua sotto è perché c'è il capo le spalle curve che pesano sai eh ogni tanto ci capita per sbaglio sì anche a me capita senti manix dimmi fratello dimmi perché sono sempre passati in motion non so non alzare troppo gli occhi che ti stanchi mi raccomando cosa ti piace Decaia non è la cosa che ti ha fatto innamorare eh lo vè chi ti sta dicendo questo fratello è una cosa fra voi privata sì fratello visto che sei un purciaro il vino a meri lo offro io grazie ma sai che sti 30 euro no sono miei questi 30 euro per il mio vino si prende le slot dopo ci stanno bene infatti si abbina una mano ah pronto ah devo andare giù vai fratello vai no ma posso non vuoi ti prendi da solo non vuoi 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 hai detto scusa hai detto scusa hai detto scusa ti hanno fatto le corna scusa per trucco sto a fare una cosa importante come mai hai fatto il corna hai detto che hai corna ciao bello a te si simone pronto mary mi ha detto che sembrionello no non è vero sembri nello è un po si è oh si è bene no ma di faccia tu sei molto carino lui no ma la voce è uguale grazie prego posso provarsi con ma tu mi dino d'angelo sarebbe bellissimo ma perché ridi così non so se tu perché c'ho le labbra a spazio c'ho una sensazione strana sulle labbra che ti dovi paralizzare paralisi facciale ah ma poi sembra che ti sei rifatto il muso che mi sei rifatto il muso che bordi il muso cioè sei dopo strano togli da te guarda come sto acconciato se non so strano così edoardo un giorno lo farà anche io va bene questa è l'idea questa è l'idea questa è l'idea boh ok merlo perché hai scritto merlo perché l'ho letto aiuto attento merlux che braccio ecco qua porta qua mi fai più chiare tu la ciglia si vuole quindi fino a quale l'antenna venite a trovarmi che schifo le lingue che schifo la saliva e poi non poi non potevo sbaciasse davanti ai miei bambini i miei ragazzi senti quei bambini fanno eeeh quando viene il genito di bambini si sporca ho sei anni live family friendly occhio al bicchiere se casca la marona un'altra volta è la maledizione che mi ha mandato che hai detto madux sbagliato eh? no nulla c'è un simone che mi deve mandare un scatolo ma fate le domande a madux ragazzi madux risponde alle domande della chat ragazzi fate le domande non sono fidanzato con kai e non sono nello già ve lo dico siete poco belli regà siete poco belli ma chi? righi grazie di 2 euro ma non sembro shrek sembro veramente un tossico verde in nove cose non c'è mai no 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 ma lì c'ha i pallini solo sulla fronte si si è bello simone molto bello shrek come ho conquistato kaya con la signoria mi piace simone ragazzi? porca puttana vi urge un tecnico? no non lo dico quel nome prebito come vi sembro? sei carino eh? da 1 a 10 sei caldo bello? roda senti voglio bere e farmi tiroina bambino è adesso